un caro saluto all'ottavio da 42 gradi a milano oggi oggi è venerdì 20 luglio sembra quasi incredibile questo mare vale proprio la pena di comprare le gambe dritte che sembra che sia alto 20 centimetri incredibile va che roba si però non ci dà la schiena spettacolo mi dà la schiena qualche foto vabbè